Buongiorno mister, abbiamo detto nelle settimane precedenti che comunque ha bisogno di tempo, di lavoro, le chiedo come è andata questa settimana di lavoro e quanta fiducia ha che si possa fare una buona prestazione a Reggio Emilia col Sassuolo. La seconda domanda sul Sassuolo perché è una squadra che conosciamo tutti abbastanza dall'indole offensiva, gioca un grande calcio però lascia degli spazi che potrebbero essere sfruttati. Deve migliorare in questo il crotone, deve sfruttare quelle poche chance che avrà nel corso della gara. Per quanto riguarda la fiducia sempre è intatta e quindi non ci sono problemi in questo. Per quanto riguarda il livello della condizione della squadra è sempre meglio, sotto l'aspetto fisico possiamo considerarci pari agli altri. Sull'aspetto della completezza tra idee, forza, impatto sulla partita sicuramente ci vuole ancora un po' di tempo, ci vorrà del tempo. Diamo la sensazione di esserci però, come ha detto lei, nelle occasioni che ci possono presentare dobbiamo essere molto ma molto più bravi anche nella capacità di gestire meglio il pallone, non soltanto in avanti. Sicuramente rispetto alla prima partita, mi riferisco a quella di Genova, abbiamo fatto meglio col Milan, nonostante questo non abbiamo mai tirato in porta e questo è un dato che mi dà veramente molto fastidio. Abbiamo creato i presupposti però con i presupposti diventa difficile poter pensare di fare qualcosa di meglio. Per quanto riguarda il Sassuolo è una squadra straordinaria, costruita benissimo, ha delle idee diverse rispetto a tutte le squadre della Serie A e questo grazie a De Zerbi che stimo tantissimo. È una partita difficile perché comunque è una partita da dover interpretare, ci saranno dei momenti dove soffriremo, ci saranno dei momenti dove potremo approfittare di qualcosa, però dobbiamo essere bravi a cercare di guadagnarceli questi momenti. Ripeto, è una squadra diversa, fa calcio in modo diverso rispetto a tutte le squadre della Serie A e quindi è bello vederla da sportivo e vediamo domani da avversario che cosa riusciamo a fare. Salve mister, le condizioni generali del gruppo e se è arrivato ieri Petriccione, se è già ruolabile, se già potrebbe portarlo al Sassuolo? No, gli infortunati sono gli stessi, per Cuomo non l'abbiamo rischiato ma diciamo che fra due giorni sarà disponibile, Benali vediamo la settimana prossima, comunque dovrebbe essere disponibile per la prossima partita, poi gli altri, Riviera anche lui dovrebbe essere disponibile per la prossima partita, c'è Edoardo che ha un problema, una frattura alla mano e non riesce a essere disponibile, poi per il resto gli altri sono della partita. Mister, sì è vero, l'impressione che ha dato il cordone contro il Milan è sicuramente molto più positiva di quella vista contro il Genoa, hai detto che ti ha dato molto fastidio aver tirato poco in porta, è vero che avete creato i presupposti, probabilmente è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri, inventiva, coraggio, voglia di attaccare l'avversario, di scavalcarlo, cosa è mancato a questo punto di vista? No, beh la precisione, perché io ho detto che non abbiamo mai tirato in porta, effettivamente non è così, perché comunque sette tiri mi pare li abbiamo fatti, ma quando non si inquadra la porta in situazioni magari un pochino più semplici, cioè non puoi fare nulla, ecco, probabilmente magari un pochino più di precisione, per quello che riguarda, parlavo di presupposti, è chiaro che poi lì individualmente si deve cercare qualcosa di diverso, probabilmente l'esperienza nel corso del campionato, nel corso delle partite ci darà anche questa convinzione, dobbiamo continuare a lavorare così perché se ci sono stati dei passi avanti rispetto alla prima partita bisogna continuare a cercare di fare i passi avanti. L'aspetto fisico che pensavo fosse precario, invece la squadra ormai è dentro al campionato, c'è da migliorare qualche automatismo, soprattutto nell'inserimento degli stranieri, questo è sicuramente un aspetto che sicuramente ci vede un po' in ritardo, poi per il resto dico va bene così, non va bene perché abbiamo perso, ma va bene così perché ci siamo, in questo momento posso dire che ci siamo, qualche settimana fa dicevo che eravamo in ritardo su tutti gli aspetti, adesso ci sono tanti aspetti che li stiamo portando dalla nostra parte. Senti, non so se hai risposto su Petriccione, potrebbe essere già dal primo minuto, hai detto no? No, non si è mai allenato, neanche questa mattina con noi. Considerato questo però mi pare che siano arrivate anche buone indicazioni sia da Petro Pereira che da Reca per quello che si è potuto vedere, a questo punto hai un problema perché c'hai anche Rispoli e Molina, qualcuno di questi quattro può giocare anche da interno? Questo è un bel problema perché c'è la possibilità di scegliere tra cavalli veramente di razza, perché comunque li considero giocatori importanti, andando a prendere Pereira e Reca abbiamo fatto qualcosa di importante, Rispoli si deve un po' adattare e inserire al meglio e sono contento perché ha un'applicazione straordinaria e sarà sicuramente un valore aggiunto, c'è la certezza di Molina perché comunque ha fatto un paio di prestazioni veramente importanti, però ribadisco, avere di dubbi o di problemi in questo senso. Salve mister, lei ha appena detto delle due precedenti partite, ha ricavato elementi positivi ma anche negativi, il Crotone sarà tale da poter competere in questo campionato quando avrà recuperato tutti gli infortunati, avrà tutto a disposizione o qualche cosa ancora deve essere fatta prima della chiusura del calciomercato? No, beh, lo sapete dai, tanto comunque i giornali li leggete anche voi, nonostante magari li possiate anche scrivere qualche articolo, il pensiero è di rinforzare ulteriormente la squadra, ho detto che alla fine del mercato noi saremo una buona squadra, sicuramente saremo competitivi, sicuramente arriveremo a quello che abbiamo in testa tutti, dispiace soltanto che questa situazione ci ha fatto partire un po' zoppicando se vogliamo usare questa frase, per il resto è una squadra da formare ma saremo sicuramente pronti da dopo la sosta con tutti gli effettivi a disposizione. Tante assenze contro il Sassuolo, questo fa rivedere un Crotone ancora con pochi cambi o in attacco lei qualche cosa, in virtù di quello che ha detto che è stato poco propositivo contro il Milan, qualche cosa di diverso? No, propositivo, abbiamo cercato di essere propositivi, bisogna tener conto che di contro è una squadra importante che comunque delle volte ci ha fatto soffrire nel palleggio, che abbiamo dovuto fare una fase difensiva un pochino più accorta e in arritramento, per il resto la squadra ha cercato di mantenere il palleggio, sicuramente lo potevamo fare meglio, ha cercato di offendere il Milan anche nelle ripartenze e potevamo essere più bravi, questo assolutamente sì. Buongiorno mister, l'argomento bisogna toccarlo per forza, il problema del Covid e di questa positività, intanto la buona notizia è che il Crotone è passato indenne da quella bomba che ha rappresentato il Genoa, cosa ne pensa del fattore di aver deciso che se non ci sono almeno 13 giocatori la partita non si gioca e viene dato il 0-3 a tavolino e poi che cosa ne pensa della richiesta ancora di snellire le operazioni per quanto riguarda il discorso dei tamponi perché da questo punto sembra che si cammini su due binari diversi, il calcio sembra che non si possa fermare mentre nella vita reale si va avanti e anche ora... No, per quanto riguarda i tamponi noi li facciamo ancora ogni quattro giorni con il siero logico quindi diciamo che c'è questa attenzione da parte di tutti per essere monitorati e quindi salvaguardare la nostra salute e la salute degli altri. Per il discorso di non rinviare una partita o di poterla giocare o disputare in 13 mi sembra assurdo, questo è il mio pensiero personale perché poi c'è da tenere conto di chi magari non è positivo che deve allenarsi individualmente quindi mi metto nei panni di chi subisce una situazione del genere che non può diciamo avere a disposizione i positivi in questo caso si parla di 12 giocatori quindi non avere a disposizione 12 giocatori per preparare una partita e i rimanenti devono fare allenamento individuale per poi andare a fare una partita mi sembra sicuramente una situazione falsata. Questa è la mia e questo è il mio pensiero. Io parlo proprio per un discorso, noi siamo qua e ci stiamo un po' arrampicando a costruire la squadra perché comunque torno indietro di due settimane fa, tre settimane fa ci allenavamo in 12, tutti in salute però ci allenavamo in 12 ed era difficile fare allenamenti quindi mettendosi nei panni di chi deve preparare una partita oltretutto senza avere a disposizione 12 giocatori tutti insieme per preparare la partita diventa impossibile. E mister mi rifaccio alla domanda che ha fatto il collega Regalino, cioè il Crotone applica un calcio di movimento un po' difficile con questi cambi, gente che va, che viene eccetera. Ci vuole tanta energia e ci vuole anche tanta velocità. Lei ha detto che più o meno è a punto, ma in realtà quanto tempo lei ha bisogno perché la squadra possa assimilare bene questa logica di calcio e possa avere poi le due componenti a posto? No, per quanto riguarda la condizione fisica secondo me siamo a posto. C'è da migliorare il palleggio, c'è da migliorare quando si ha la palla che diventa fondamentale poi per far correre gli avversari a vuoto. Nel momento in cui hai la palla delle volte sembra che corri di più ma mantenendo la palla corri meglio e fai correre gli avversari. Sicuramente rispetto a qualche partita fa in un altro campionato avevamo questa forza di predominio non soltanto territoriale ma anche di palleggio. Ecco, se fossimo così bravi da portarlo anche in questa categoria probabilmente da subito avremmo migliorato la condizione fisica. L'altro aspetto è quello di avere delle idee in fase difensiva di poter andare magari più alti a prendere la squadra avversaria. però questo c'è soltanto bisogno di qualche partita ma non mi preoccupa questo perché se andiamo a vedere abbiamo preso dei gol banali, evitabili. Io vorrei soltanto che a livello di presenza sul campo, nel palleggio, nella capacità di gestire di gestire i momenti, quindi sapere andare forte quando bisogna andare forte e sapere temporeggiare quando invece c'è bisogno di far correre, ripeto, c'è bisogno di far correre la squadra avversaria a vuoto. Questa dottilità ce l'hanno tutti, questa capacità, nel suo gruppo? Beh, allora, quelli che stavano con me sicuramente sì. Bisogna migliorare nella personalità di farlo perché siamo in un campionato migliore, tecnicamente. Gli stranieri si devono inserire, non so quanto tempo ci vorrà però sicuramente sono dei bravi giocatori e quindi al meglio cercheremo di fare le cose il più presto possibile. Buongiorno mister. Il più grande atleta meridionale, meridionalista, Pietro Mennea, che è diventato uno dei più grandi in assoluto, diceva che la fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni. Lei poco fa ha detto che i suoi di prima già hanno consapevolizzato e hanno consapevolizzato non solo, credo, movimenti ma anche proprio questa forza dei sogni che deve diventare realtà anche quando perdi, se la vogliamo introdurre in questa maniera qua. Quanto è importante che velocemente gli altri del gruppo che stanno inserendosi capiscano che questo sogno lo si costruisce domenica dopo domenica, minuto dopo minuto per avere la possibilità, le ultime giornate, di giocarsi il sogno? Noi non dobbiamo mai mollare, dobbiamo sempre credere in quello che si fa facendo così, facendo comunque un discorso sia tecnico che tattico ma soprattutto mentale, nel momento in cui lavori bene durante la settimana credo sia molto più facile poi saper soffrire perché poi sono sempre gli avversari della partita che ti si propone davanti a dover decidere come fare una partita o no. È chiaro che c'è la volontà sempre comunque di farla in un certo modo però penso che proprio attraverso il sacrificio e attraverso un'unità mentale si possa sicuramente ovviare a quelle che magari possono essere dei limiti tecnici rispetto a qualche squadra. Però ci sono secondo me tante squadre alla portata e quindi bisogna sempre credere, non mollare mai, andare avanti a testa bassa credere in quello che si fa e sono convinto che arriveranno anche i risultati. Tradotto in termini tattici Preda ha fatto una gran gara su Teo Hernandez proprio in preventiva quindi costringendo il Milan adesso che il Sessuolo gioca poi fra l'altro con grande attenzione proprio sulle fasce quanto è importante che proprio da quella parte lì si capisca come occupare gli spazi e come occuparli anche verso avanti? No, beh, ma abbiamo anche Rezza Rezza ha fatto intravedere delle doti fisiche non da poco tecnicamente è un ottimo giocatore stessa cosa per Era Rispoli a livello atletico è straordinario Molina in entrambe le fasi ha dimostrato mi ripeto al discorso precedente noi lì cadiamo in piedi potrebbe essere ulteriormente un'arma in più al di là di quelle che possono essere i miei dettami tattici la squadra ha grandi potenzialità a livello fisico con i nuovi innesti in questo momento bisogna farla diventare un pochino più granitica più equilibrata e poi capire i momenti perché noi possiamo offendere contro chiunque e avere questa convinzione Salve mister, io ritorno un attimo nella prima domanda con la partita contro il Milan ho visto un grande Salvatore Molina sulla fase anche in fase difensiva e in fase offensiva Nicolo Zanellato infatti poi è stato sostituito nervoso e in ritardo rispetto a quello che eravamo abituati a conoscere l'altra domanda appunto lei quando fuori conferenza stampa l'altra volta ha detto quando è arrivato lei praticamente la squadra non ha risposto per come erano i suoi dettami di gioco quanto la sua mentalità e questo poi è stato acquisito col tempo l'abbiamo visto che è stato vincente è l'innesto appunto di questi nuovi amalgamarsi con quello che è il suo punto di vista di gioco quindi quello che sono le sue vedute questo purtroppo è quello che ho detto da sempre in questa stagione io ho sempre parlato di ritardo ed effettivamente è così se andate a vedere le conferenze stampa dei miei colleghi tutti che si lamentano proprio perché non hanno la possibilità di integrare giocatori o di far apprendere le idee perché queste idee purtroppo vengono considerate in partite dove ci sono in ballo i punti e noi questo precampionato tenendo conto di quando abbiamo iniziato con chi e quanti abbiamo iniziato purtroppo lo stiamo facendo in un campionato molto più difficile consentitemi il termine bisogna far finta che questo è un precampionato non è così però d'altronde c'è l'inserimento dei giocatori c'è la volontà di mettere dentro delle idee che secondo me sono importanti e possono sicuramente dare qualcosa in più a questo gruppo ho la fortuna che voi avete visto la squadra in questi due anni dove è arrivata sicuramente bisogna avere pazienza e quindi le due partite di campionato che abbiamo fatto col Genoa e col Milan se le consideriamo amichevoli e facciamo tesoro degli errori commessi possiamo mettere dei mattoncini a poter crescere a poter migliorare la squadra non è così perché comunque sono qua a raccontare che cosa cioè siamo dentro al campionato bisogna fare dei punti allo stesso modo delle volte faccio un passo indietro perché vale molto di più un gesto tecnico la volontà di portare a casa un risultato piuttosto che essere belli ed estetici e quindi siamo dentro è la terza giornata poi ci sarà la sosta ci saranno due settimane di lavoro cercheremo di approfittare di queste due settimane qua però tenendo conto della realtà e del presente che stiamo vivendo grazie a tutti grazie a tutti